Domani sarà derby nella Valdinievole. Per la terza giornata del campionato di eccellenza allo Stadio Pertini si sfideranno Ponte Bugianese e Montecatini. Una sfida fra due squadre che si ritrovano in questa categoria una contro l'altra dopo essersi già incontrate in Coppa Italia per due volte con il passaggio del turno dei Bianco Celesti. Qui però si parla di campionato e quindi il sapore sarà del tutto diverso. In palio ci sono tre punti importanti. Ad oggi il percorso della compagine di Marselli e di quella di Shintu è identico. Un debutto negativo e poi il riscatto. Quindi la classifica li vede a pari merito a quota 3. Una settimana di duro lavoro per entrambe. Da una parte il Ponte con alcuni giocatori che hanno svolto lavoro differenziato ma che saranno a disposizione di Mr. Shintu. Dall'altra i Termali che dovranno invece rinunciare a Di Nardo e Fedi infortunati ma ci sarà il rientro di Amsa. Un derby tutto da seguire che si giocherà a viso aperto. Nessuna delle due dovrà abbassare la guardia. Fischio d'inizio alle ore 15.